L'Avis comunale festeggia in questa giornata il cinquantesimo di fondazione, un fiore all'occhiello per il comune? Beh sicuramente San Francesco al Campo è un paese che è molto vasto però ha tante associazioni, sono circa 44. L'Avis è una di quelle, 50 anni è un traguardo molto importante, poi l'Avis non è solo donazione di sangue ma partecipa alla vita sociale del paese, a tutte le manifestazioni. Uno delle chicche è il presepio che da anni ormai viene così allestito e mandato avanti da loro. Permettetemi di ricordare oggi comunque una persona anche che ha voluto così e ha fatto tanto per l'Avis, tutti indistrittamente anche che non ci sono più, però una persona in particolare è Mario Ballesio che è stato il presidente storico così dell'Avis. Mi ricordo che mi raccontava, visto che io anche il papà e la mamma erano avvisini, ho seguito tutte le fasi di queste feste che erano molto sentite nel paese, diciamo dal decennale, ventennale, avanti così. Lui mi raccontava, appunto Mario, che si andava braccio a braccio, nel senso che c'era proprio chi ne aveva bisogno, andavi vicino, ti attaccavano dal tuo braccio direttamente al paziente. Parliamo proprio della preistoria, diciamo. Però comunque mi piace ricordarlo perché lui aveva voluto che ci fosse la sezione Avis, appunto, come è stato anche lui il fautore della Croce Rossa, se attualmente abbiamo la Croce Rossa a San Francesco, Mario aveva anche così voluto che ci fosse la Croce Rossa italiana, come, diciamo, organizzazione di pubblica sostanza e sanitaria. Quindi, che dire, faccio i complimenti e gli auguri al Presidente Roberto Ballesio, ma anche a tutto il direttivo e a tutti gli avvisini per quello che fanno, che è una cosa lodevolissima, e vi dico continuate così. Grazie. Oggi festeggiamo i nostri primi 50 anni, i 50 anni della nostra storia. Un avvenimento importante, anzi è importantissimo, che ci permette di essere qui con tanti amici, con sorelle, tanti donatori, e che ci dà la possibilità di ricordare anche chi, in quel lontano, ormai 1969, ha voluto far nascere questa associazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.